Se domani c'è qualche antidoto rispetto all'andata? Una squadra sicuramente molto fisica, soprattutto con gli esterni. Hanno due o tre giocatori che hanno una fisicità quasi a livello superiore, senza quasi. Poi sanno quello che devono fare. Ci hanno sicuramente messo in difficoltà a Mantova. Noi dobbiamo riuscire a non permettere che loro possano essere così fisici. Per cui essere noi più rapidi, giocare meglio negli spazi, giocare bene in velocità, giocare bene con i cambi di velocità. E facendo bene anche le nostre cose. Quindi può essere uno dei partiti in cui un ritmo alto può essere più utile? Loro sono una squadra che perde meno palloni ed è la squadra che ne recupera tanti. Sono i primi nelle classifiche di queste statistiche. Io non so quanto possa essere utile per noi correre tanto. Perché correre tanto delle volte rischi anche di perdere molti palloni. Certamente il nostro giochio di velocità deve essere le nostre caratteristiche. non so se riusciremo ad avere un ritmo molto alto. Perché anche loro sono molto bravi a gestire il ritmo. da parte prima, nel mondo che voglio andare e continua People6 a ritmo. poi posta anche una scolta. Più anche la scolta di scolta. Ma insubita a la scolta rischi. Alla scolta. Quindi anche la scolta.